Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Doctro Drone e oggi vi parlerò della GoPro Hero 10 Bones A voi la sigla Silenzio, motore, azione, scena 1, take 1 Questa GoPro Hero 10 Bones ha le stesse caratteristiche video della GoPro Hero 10 Black Di cui trovate l'unboxing qua sopra Però è ridotta all'osso Infatti non ha più gli autoparlanti, non ha più nello schermo frontale, nello schermo di dietro Ha perso la sua resistenza all'acqua, non è più waterproof La grande differenza di peso infine è data dall'assenza della batteria Le batterie supportate sono dalla 2S alla 6S Le comuni batterie per chi pratica voli FPV È necessario saper saldare perché la GoPro viene fornita e è composto da 3 fili Due fili servono per la batteria, vanno saldati sulla scheda del drone Il terzo filo serve nel caso in cui uno voglia gestire l'impostazione della telecamera attraverso Betafly O comunque software simili Il peso della GoPro Hero 10 Black è di 153 grammi Mentre il peso della GoPro Hero 10 Bones è di soli 54 grammi Addirittura se vogliamo confrontarla con la GoPro Hero 5 Session pesa addirittura 20 grammi meno di quest'ultima Una cosa sbalorditiva I prezzi per chi è possessore dell'abbonamento GoPro la potrà acquistare a 350 euro Mentre se non si è già abbonati ma compriamo questa GoPro insieme all'abbonamento Pagheremo tutto 400 euro Paga l'abbonamento 50 euro più 350 della telecamera Non si vuole fare l'abbonamento Costerà 500 euro Io vi consiglio comunque di fare l'abbonamento perché io comprando questa l'ho fatto Si ritrova un cloud senza limiti di GoPro molto utile ed inoltre due sostituzioni all'anno nel caso in cui durante l'uso si rompa la GoPro Mi raccomando ragazzi per questo video è tutto Non scordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi qui sotto Al prossimo video